Proprio oggi mi è arrivata una citazione per danni da parte di Mediaset. Questa citazione mi è arrivata perché io ho parlato in un'intervista di conflitto di interessi. Questa citazione casualmente arriva dopo che Berlusconi ha chiesto a Masi e alla G-Com di chiudere Anno Zero, dopo che siamo stati costretti ad andare via dalla RAI, dopo che le porte della Sette si sono chiuse. E insomma è dopo che casualmente la scorsa settimana il Tg5 ha dedicato un clamoroso articolo al fatto che gli attentati ai ripetitori in Trentino insomma ce ne eravamo fatti praticamente da soli, insomma una cosa del genere. Tutte cose casuali, parlare del conflitto di interessi in questo paese è molto complicato. Un buon momento politico visto che c'è una svolta e che forse diamo incontro anche a una, non dico una rappacificazione, ma perlomeno a una minore conflittualità, a un'informazione meno faziosa e forse più obiettiva e più alla fine affidabile. Grazie a tutti.